Una pagliacciata. Così si sono giustificati due ragazzi di 17 e 18 anni incensurati che nella giornata di sabato hanno sparato con una pistola a salve in alcuni punti di Sansevero tra cui anche nei pressi l'abitazione di Matteo Anastasio, il 42enne morto in seguito alle ferite riportate domenico 11 luglio in via Matteotti a Sansevero. Nell'agguato, lo ricordiamo, è rimasto ferito il nipote, un bambino di 6 anni ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Bari. I due ragazzi, accompagnati dal loro legale, l'avvocato Luigi Marinelli, hanno reso dichiarazioni spontanee permettendo anche il recupero della pistola con cui hanno sparato. I due giovani sono stati interrogati dagli agenti della scuola mobile di Foggia e dai colleghi del commissariato di Sansevero. Nel corso dell'interrogatorio, davanti al loro difensore, avrebbero puntualizzato e ribadito che non c'è alcun legame tra l'omicidio e la loro bravata. Abbiamo sparato a salve, hanno ribadito i due ragazzi, in più punti di Sansevero e non sapevamo nemmeno che lì abitasse la famiglia di quello ucciso. La nostra è stata una stupida pagliacciata. Una bravata dunque, ma anche l'indice della situazione che sta vivendo in questo momento Sansevero con una criminalità dilagante e con ragazzini che purtroppo provano ad imitarla.